I quadri di mio padre non bastano a descrivere tutta la bellezza che ho davanti. Oggi siamo diventati lenti in fatto di immaginazione. Io la chiamo la visione, la capacità di vedere le cose che stanno al di là delle cose. L'immaginazione aiuta a predire, a non accontentarsi, a creare nuove soluzioni. Un tempo si viveva con questa tensione continua, con un movimento sempre in avanti. Un tempo si viveva con questa tensione.